ciao oggi volevo fare la vanilla insieme a voi son registrando i video stupido zombo il tridente il tridente il tridente il tridente il tridente l'ho preso ma mi interessa devo prendere il tridente si ho il tridente un po' usato guarda e ora posso fare questo si noi prendiamo il tridente facendo così bellissimo ok già il video è partito un po' bene chiunque sia tu iscriviti al mio canale vi prego vi prego vi scongiuro vi scongiuro oggi vediamo allora vediamo è possibile che non ho nemmeno dei blocchi già c'è lì maria aspettate un attimo perché non mi allora se sei qualcosa di minecraft mi devi scrivere giù a questo video nei commenti come si fa una diamine di scusate scusate come si fa una barca che io non la so craftare mi libero lo spazio così lascio anzi no scusate per prima allora stiamo dicendo si mettetevi anche i motori le macchine tutto di più maria dobbiamo fare il tiro a segno non ci sono riuscita dovrò creare un po' allora già facciamo una cosa nei commenti mi dovete scrivere cosa devo fare il prossimo video devo fare una scritta di verbo qualcosa del genere oppure devo devo mettere devo mettere devo mettere farò la la barca off camera e andremo in altre isole oppure creiamo una casetta per questa che non mi importa così tanto vabbè ma è sempre con me quindi tipo una mucca fedele come un cane oggi dovevo fare dovevo fare una barca per andare in altre isole e fare cose però visto che non mi ricordo come veramente non so come si graffita questa barca non ho potuto fare il video che volevo fare e quindi questo sarà tipo il primo primissimo il mio primo video che voi potete mettere in considerazione questo canale comunque se vi io mi chiamo in un altro modo sono maschio ma se a voi vi sponda Elisa però ho sbagliato il nome quindi non fate caso questa cosa ok vi prego allora oggi faremo un'altra cosa aspettate un attimo devo fare una cosa io vado a dormire questa parte non la vedrete e poi ci vediamo quando sarà giorno ok ci siamo allora ora vorrei fare una scultura di ma pure tra le possibilità che potete scegliere c'è io che vado in minire ma è un porcello ecco voglio fare una scultura voi vi prego mettete il video velocizzato oppure saltate questa parte perché credo che ci metto un po' ci vediamo dopo ok allora lo so che non è un granché però ho fatto il meno tempo possibile dovrebbe essere un romino dovevo fare un romino ma poi ho fatto un neonato dovrebbe essere che un neonato questo sarebbe il corpo poi in un prossimo video lo vedrete che sarà più grosso qua ora è secco secco perché non avevo abbastanza blocchi e e sarà strisciando così gattolando come si dice allora se vi è piaciuta la scultura ditemelo perché io sono un paziente lo so che fa un po' eh non è un granché però lo so ci ho messo più impegno e se suggerite di mettere qualcosa in più ritocco in più acqua questa creazione ditemelo perché così non dovrete restare sempre così a vedere così molto brutta io vi lascio che devo andare allora ciao che è arrivato a questo parte del video grandioso perché sarebbe un supereroe ciao ciao ciao